La chiusura della strada statale 452 della Contessa Gubbio ha inciso profondamente sull'economia delle attività e aziende che sorgono lungo l'arteria di collegamento tra l'Umbria e le Marche. Malgrado il cantiere di Anas abbia riaperto in tempi da record la strada, gli otto mesi di viabilità interrotta hanno lasciato il segno meno. Ed è per questo che Confcommercio Marche Nord e Confcommercio Umbria Gubbio hanno pensato e presentato a Roma, nella sede dell'ENIT, l'Agenzia Nazionale per il Turismo, un progetto di rilancio finalizzato a sostenere le imprese turistiche danneggiate durante la chiusura della statale intitolato Contessa, una porta tra terra e mare. Un progetto di rilancio turistico che si articola in tre filoni, enno gastronomico, storico e archeologico. La chiusura della Contessa la scorsa estate, ha spiegato Amerigo Varotti, direttore Confcommercio Marche Nord, ha deviato i tradizionali flussi turistici Umbri in direzione delle nostre coste verso altre località. Insieme, ha commentato Barbara Marcolini, vicepresidente di Confcommercio Marche, abbiamo lavorato per sollecitare la conclusione dei lavori sulla statale, riuscendo ad anticiparne l'apertura e per questo siamo grati alle istituzioni. I menù della Contessa, circuiti enogastronomici dedicati alla scoperta di ristoranti e prodotti del territorio interregionale, rappresenteranno uno dei pilastri del progetto. Previsti da metà giugno a metà settembre anche i week gastronomici da amare, durante i quali i ristoranti della costa di Pesaro, Fano, Marotte e Gabicce Mare proporranno menù a prezzi speciali. Non solo enogastronomia, ha previsto anche la valorizzazione di percorsi che possano incentivare il turismo lento e sostenibile, come quelli dedicati ai Montefeltro e ai Della Rovere. Ci sono anche proposte archeologiche, il Teatro Romano di Gubbio, il Ponte Maglio a Cagli, lungo la Flaminia, il Parco archeologico di Fossombrone e l'Arco di Augusto a Fano. Quelli individuati sono percorsi fisici e ideali, condivisi dalle due regioni, ha concluso Barbara Marsili, presidente di Confcommercio Gubbio, per valorizzare tutte le eccellenze che ci sono sul territorio, partendo proprio da quello che abbiamo in comune.